Piero è parte della famiglia, essendo considerato parte della famiglia diventa veramente un processo quasi naturale quello di avere uno scambio di opinioni proprio a 360 gradi. Io faccio parte di questa famiglia e loro fanno parte della mia famiglia. È una famiglia umana ed è una famiglia professionale. È un legame profondo quello tra Living Divani, la famiglia Bestetti e il suo art director e designer di punta Piero Lissoni. Un rapporto cresciuto negli anni che ha prodotto arredi con un segno preciso, equilibrio delle proporzioni, leggerezza, lusso mai ostentato. Lissoni disegna forme pure e neutre e sceglie per l'azienda altri designer che condividono la sua cifra progettuale. Adesso costruisco, adesso scelgo altri designer, rompo le scatole, non li faccio dormire di notte perché sono sempre in ritardo, insomma. Nella collezione 2013 ai divani si affianca una serie di nuovi complementi. Tra gli altri la poltroncina Fold del designer valenziano Victor Carrasco, Track, la panca del madrileno David Lopez Kinkoses e i nuovi tappeti di ispirazione artistica sin titolo della coppia di designer Harry e Camila. Ci sono prodotti che arrivano dall'estremo oriente come questi disegnati da una coppia di designer di Singapore. Ci sono delle new entry che noi abbiamo scoperto girando tra i saloni satelliti, le esperienze all'esterno della fiera. Ci sono i miei divani, ci sono degli oggetti piccoli che hanno fatto dei giovanissimi architetti e mi sono piaciuti perché mi riportavano alla mente alcuni bellissimi progetti degli anni sessanta. La cosa che a me piace molto è l'incredibile coerenza, è un'azienda straordinariamente coerente. Il living divani è in grado di controllare tutti i processi all'interno dell'azienda, quindi dalla selezione dei prodotti dei designer e delle collaborazioni alla costruzione del prezzo, alla commercializzazione e alle collaborazioni che poi ne conseguono. I nostri non sono prodotti che hanno una riconoscibilità perché sono particolari o iconici, sono comunque molto gentili e hanno però il dettaglio, la finitura e le proporzioni che li rendono poi unici. Nello showroom di Boffi, brand internazionale di bagno e cucine, Living ha allestito un altro spazio fuori salone con il letto extra wall rigorosamente bianco, il divano modulare extra soft, entrambi di Piero Lissoni e il servetto mate del duo creativo milanese AMB.